Signori e signori, è tempo di scrivere la storia, è tempo di mettersi nel... Salve signori, speedrun di crash, come funziona? Dovremmo completare tutte le fasi principali del gioco, ovvero non bisognerà quindi fare né la prova a tempo, né prendere tutte le casse, ma semplicemente prendere il pilone viola, che sarebbe il completamento della missione. Ci sono 5 stanze e ogni stanza ha 5 livelli più boss. Quindi quando si arriva all'ultimo boss, che poi spoiler è Cortex, che abbiamo da fare... No, non lo so, per tutti, lo dico, bisogna fare quello. Partiremo dal centro, vuole partire già Marco, io sarei partito da messo in piedi sull'uno, così io premo start sul cronometro e poi saltiamo all'interno, che c'è la visuale. Puoi schippare tutte le animazioni che vuoi, e quello è. 3, 2, 1, vai. Hai fatto partire il timer. Anche io. Porco Dio, sono andato addosso a un porco Dio di muro. Chil, chil. Però, ma vada una all'ora. Eh, ho fatto un brutto errore, perché ho lisciato il buddaka. Sì, devi proprio tirare dritto. Fai finta che sei la di carry tutto. Ah, cerchio X, sì. Io mi ricordo che l'ultima volta nella cosa, io ho missato il coso, ho missato il cristallo, Marzò. Ah, bro, tranquillo. L'ho fatto anch'io. Non adesso. Dai, togiti sto cristallo dal culo. Ah, regà, io togli. Qualcuno muore. Under pressure. Under pressure. Eh, ma io sto da computer, eh. Ah, eh, GG. E che gioca ma fa? Questo, poi, il livello già dell'acqua, già tragico. Porco Dio. Comunque, siamo tutti uguali. C'è poco da fare. No, ho preso il checkpoint. Non c'ho la maschera. È finita. Eh, ma non voglio. Che tu stai al tre. Hai finito il tre. Eh, no, eh, sì, vabbè, ma mi sto a fa cazzo de cane, Marzò. Ah, non ne hai fatto l'uno, ok. Dai, fammi salì, Cristo Dio che si blocca sto coso. Quello de' acqua, sus. Very important, sus. No, regà, l'ascolto di non esiste più, era troppo utile. Orient Express. Questa la trolla sicura. Non è vero, cazzata. Eh, cosa esplosiva della nave esplosiva subacquea. Che cazzo hai detto? Porco Dio, porco Dio. Se effettivamente non si è capito troppo, eh. Non sono un pazzo scatenato. No. No, Troia. No, sono morto. Dici, quello è un bel problema, vai, Marzò? Dio cane. Finito Oriente Express, buono. Questa è veramente insane game. C'è solamente una cosa che me lo farebbe indurire di più e sarebbe crash bash rifatto col multiplayer. Eh, non so perché non lo stanno a fare. Ah, no, no, ho preso la lava, la lava, la lava. Eh, Fabio, l'hai appena detto, l'ho preso anch'io. Ah, posso. Quella subito dopo il checkpoint, l'hai preso? L'ho preso due volte. L'ho preso due volte, sì. Che cazzo fai? Ok. L'ho preso tre volte. Pazzo. Oh, che cazzo ho fatto? Eh, perché era tutto time, sto schifo. Porco Dio. No, il pedofilo nell'acqua. Quello è il pedofilo nell'acqua. Non vieno a care. L'ultimo volta che ho giocato questo livello non avevo tutte le pole position che ho adesso. Pole position. Porco Dio, frate, ho fatto la curva più lunga degli urti, più larga degli ultimi 15 anni. No, Fabio, Fabio, Fabio. Buono, buono, buono. Poi non so se è vero. La prima volta, porco Dio. Baby, con timore. Eravamo pure mezzi allenati. Marzo te la spacco sta scrivania. Per cui la posso ricomprare. In realtà ce l'ho già, la parte del soffice, l'ho già dietro lì, ma. Ah, allora posso la spacco, eh? Dio merda! Dio merda! Le palle di cannone! No, 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 sono il coglione! Non ci credo. No, ragazzi. No, lo farò. No, lo farò. Glielo faccio vedere. Poi come è finito tutte le vite? Ho finito tutte le vite. No, mi sono dimenticato del cataini. E niente, mi ha ripreso il maestro. C'avevo quel vantaggio dall'inizio. Mamma mia, per amare c'avevo la maschera, se no toccava di passer livello. Oh, come cazzo si faceva il grande Tini Tiger. Tutto a sinistra, fazzo. Ah, lui zompava e poi andava attaccato, sì. E mo' arrivano i leoni. Rush, te lo ciuccio! Ah, tutto a sinistra? Mille leoni a sinistra? Buono! Ma c'è sta dingo, dai, il mio fratello. No, no, è schiacciato, è schiacciato, è schiacciato. Ma non è vero che se la fai ti trolla tutta la run. No, il leone mi ha mangiato. Il leone mi ha mangiato. No, Marzo, Mazzò. Mi ha mangiato il leone. Ah, devo rifare tutto il boss, ho capito. Finita la mia run. Buono, buono, dai. Sto campione fatto. E invece ti attacchi al cazzo? Ecco, qua apriamo la maschera. Avevo sbortato. Eh, te c'hai mascherone, vedi, Marzo? Eh, sì. Eh, ovvio. No! Quanto li odio? No, ma come me l'ha persa? Perché me la perde ogni volta così, è la seconda volta? Ma come Erlino, non rompere il cazzo. Cazzo vuole questo? Oh, porco Dio, il Maranzo a Milano, levati! Oh, ricorri, recresce! Se non perdeva il check-point qua, mi ammazzava. Ah, ma ci si può arrivare pure col sarto senza paguara, roba, zio porro. Eri che non salta, sto cancro! Ma no, mi stanno sudando le mani. Ah, è certo, è certo! C'è, ma orcoddio, Italia, Italia, budella! Quanto me stanno sul cazzo, zio! Eh, sì, li devi aspettà, per quello serve altri, porcavo. Oh, Cristo Dio! Ma perché non c'ho tre maschere? Ok, esce, me l'ha fatto fare adesso. Dai, ma get sto coglione! No, il genio della lampada! Via, 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 via! Lo rischi, è pazzo! Comunque, il mondo delle... No, ah, la palla di cannone mi ha preso. Il mondo delle speedrun è troppo fico, sono d'accordo. Ma guarda che cazzo sono andato a fa... Ma nooo! Ah, che sei? Ma tu sei alle sfingi! No, sto a... Non me la rischio. Il secondo questo del desè... No, non ci credo. Mi ha fatto la magia. Oh, Dio, si ferma, si ferma, lui si ferma! Che cazzo ti fermi, porco Dio! Bro, porca Madonna! Nonna! Perché è tutto storto? No, ragazzi, non ci arriva. Ah, certo! No, regà, però, bad luck! Certo, lui con la sciabola! La rischia! Ho capito. La pazzo! E poi... All'interno, all'interno! Oio, 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 oio! No! Sono morto! È gg. Finita. Ho fatto pure bene, incredibile. Questa non la posso sbagliare. Questa non la posso sbagliare, capo. Prendi la scia! Lo vuole attaccare all'esterno! Non ci credo. Perché me la devo rischiare? Perché devo fare tutto con R2 tenuto premuto, zio porco? Perché se no moche le palle. Porco Dio! Sono morto! Sono morto! Sono morto! Sono morto! Cristo maledetto! Non ci credo, non vinco. Ovviamente! No, regà! Che cazzo è successo? Non ho vinto. Secondo. Regà, che cazzo è successo? La nostra speed non finisce qui. Porco Dio, azi, quanto tempo ti avrei preso se non sbagliare. Non ci credo. Riarrivo second... Se mi nonno c'aveva tre palle, era un flipper. Arrivo secondo di nuovo. No, regà, non l'ho potuto passare. Che culo, mi ha dato la win. Mamma mia, sto tutto XD. No, ragazzi, ho sbagliato tanti. Devo morire. Cioè, la verità è che devo morire. No, le scimmette! Via, 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 via! Fuggire, 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 fuggire! Ok, bello! Porco Dio, ti devi prendere. Grande, grande bruciore ti devi prendere. Mi ha già preso una volta. Te cascasse il grande bruciore sopra, azio porco. E ti dà dingo deal? No! Non ci credo. M'ho preso! Non ci credo. No, l'abbrustolatore è qua. No, figlio di puttana! Ma scusami, ma non... No, regà! Mi fa... Mi fa... Ma sono... Tre vite! Chill, chill. Recuperiamo. Ma quanto puoi essere disabile, frate? Midnight run. Questa la faccio... Speed run. Ragazzi, ma alzo! Tu non hai idea di che cosa sto facendo, frate? Già, Marco, loro hanno potuto vedere quello che ho fatto io e ti assicuro un po' essere peggio. Cioè, ho fatto non so quante cappelle. Che cosa sto facendo? Ma che so, stupido! No, niente. Non è possibile che non riesco a fare questa puttanata? No, ragazzi, mi serve prenderla. Cioè, qua, se no... Eh, ragazzi, io la faccio così, preferisco. Ooooooh! Panciata! No, e mo' me sega pure, frate, questo. Non c'ho manco... Manco maschere. Mamma mia, che... Che midnight run! Ma del panico? Porco Dio! Dio merda! Dio merda! Dio merda! Dio merda! Questa la smussata, eh. Perché sono uno stronzo. Sono un imbecile. A me lo dici? Dov'è lo squalo, porco Dio? Qui che me lo ricordo. Wonderful stuff amazing! Ma ragazzi, è lunga, eh. Non la voglio sbagliare ancora. Questo checkpoint di merda. Mamma mia! Devo prendere la scia. Mamma mia, che culo! Eh, zingo dai il fatto. Il fazzone ci sta, eh? Sì, sto indietro, parecchio, però... Ah, un livello fatto, eh. Ah, dici, manco troppo. No, da me è un livello. Dynomite è brutto. Impossibile capire il 3D del videogioco! Io l'ultima volta ho visto... Ho visto sbagliare quello di Cortex. Cosa? Che roba, ricapo. Eh, vado piano, se no ricrepo. Con questa maschera troppo, troppo worth, avvece la seperma e non più ha mai danno. Niente, è finita la mia run, dai. Guarda che c'è ricrepo, mo'. Porco Dio. Midnight run! Sì, ma... Dai, Coco, brutta troia! Era il 13 o il 14 questo? Ma se era il 13? No, vabbè. Eccolo qui! Oioioioi, che partenza! Zero vite! Ma baffa, guarda quante cose buttate. Tocca farmare le vite. Sto spawnato e morto, Marzo. Ah, vabbè, è game over e tosta. Vabbè, in realtà, what, so vista morto, dai. Almeno c'ho le vite, ma... Piuttosto che li fa tutto il livello. Sì, ma c'è del bug, eh. Ma stai scherzando! No, già mo'. Vedo un ca... Non ti arrabbia in questa maniera. Di sotto, di sotto. Mi sa che è un altro game over, questo. Porco il GG, Marzo, hai fatto per strike, frate. È una roba allucinante. È una roba allucinante. Una roba allucinante, porco Dio. Vabbè, è assurdo. Io ho due vite. Cioè, questa cosa non me la può levare nessuno dal cervello. No, faccio... Non mi direi che... Una roba allucinante, porco Dio. Sto giocando safe in una maniera... Ma lo dovevo prendere il dinosaurino? No, no, no. Però... No, è bagato, eh. C'ho i capelli in faccia. Anche io faccio... Ma regà, sto problema... Baton! Stai, togli sto livello di merda. Stai, tagli a stashe gun? Sì, ma sto sto... Ah, mi manda sul muro! No, ho un tumore, questo tizio. Mi ricordavo. Basta, cancro! No, non posso vincere. Mi sta sbattendo... Il terzo in classifica, sì, mi sta sbattendo fuori di pista. Ho capito. Ho capito. Ah, è quella faze l'edale, eh. Porco Dio. Guardalo, insuperabile! Ma chi è l'onzo? Ah, deve esplorare per forza qualcosa. Che cosa? Pazza che è shigan. Fermate, oh. No. No. Ah, è giusto. È giusto, perché no? R-snack. Chill. Masterato il livello mi sa che era anche World Record. Il predestinato vince. Ah, no, no, no. Dopo stacchi, dopo te lo metto nel culo. Oh, voglio. Questo è livello scarabbeo. No, perché Cristiano Ronaldo prova a ittarmi? Mamma mia, meno male che non sono riuscito a farla così. No, non mi toccare, mi fa schifo. Porco Dio, gravissimo errore. Ebbè, è un vecchio bavo... No, è finita. E adesso, Farzo, sono dove hai ribloccato tu prima. Che cosa? Non lo sai all'inizio, sì. Ah, non lo puoi uccidere. Ah! Farzo ha tremato casa, ti giuro. Strike. Dai, ma tutti i salti sono tutti storti. Ah, non ho fatto il 12. Ah, morta la nave. Ah, e lo squalo subito dopo mi mangia. Ottimo. Eh, adagio, adagio. Un giorno ti innamorerai. Adagio, adagio. E poi te la prendi in del culo, porco Dio. Ah, finite le vite. Perfetto. Game over, si ricomincia. Che ti dà, Ngin? Non mi funziona il pad. Porco Dio, non spamma! Ma cosa serve il timer? Per vedere come passa il tempo, perché vi quanto stiamo invecchiando. Ma quello degli UFO, forse quello giù però. Manca l'ultimo. Sì, ma sto notrollando di più. Che era sta roba. Se la ride? Il grande trophy. Porca madonna, ci stava un... Una velocità lì, ci stava. Ma poi toccava tornare indietro. Ah no, lui si spostava. Guarda che mi pia la bomba, eh. Mi pia la bomba. Mi pia la bomba. Sono un idiota. No ragazzi, ma per gli uomini che tamponano ci sarebbe da dare la pena di morte. Vabbè, sto a fare un po' più schifo per dare una possibilità a mollo. Grazie, forse almeno tu guarda. Almeno per farlo giocare un pochetto. Ah, ma stiamo a un'ora, ne aveva ancora finito nessuno. Eh sì, ti ho detto, abbiamo sbagliato tantissimo, regà. Non siamo più qui, ragazzacci, di una volta. Guarda, guarda Patrick Schick, porco Dio. In mezzo al cazzo. Sì, domani c'è l'aereo presto. Lo sapevo, lo sapevo, sti figli di una mignotta, sono una mignotta. Guarda, mi ci giocavo le palle che le porte mi schiacciavano. Come mi ha preso? Non è vero, non mi ha preso, non mi ha preso. E invece sì. Buono, normale che ho distrutto la TNT, mi andava. Mamma mia, guarda che brutto, che brutti giri che mi sono beccato. Però se mi prendeva la scimmia da dietro, impazzivo. No, è tutto storto. Io qua per fare le platino ho dovuto guardare un video di YouTube perché devi avere il giro perfetto. Affanculo, troppi di merda, porco Dio. Magari muori, sgozzato, figlio di puttana. E poi mi seguo su di te, porco Dio. Sulla tua tomba del cazzo mi seguo. Bastardo robotico di merda. Oh ya zè 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 zè. Sphinxinator. Sempre Fidelis. Basta metterti i cosi nel culo. Non posso sbagliare il livello dei... Dei pirati. Ah ma qua non è che c'erano i gabbiani killer? Come so se potevo andare Sì però c'è da dire che sto venendo hittato Da delle hitbox mai viste Eh ma ragazzi ma qua l'abbiamo persa all'inizio Che poi perdi il mental Oddio sto a 17 Ma sei serio? No io ho giocato solamente il livello bonus è questo No quello te lo devi fare Ti viene una malattia Eh vabbè è finito Signori ho finito Se tu vuoi finì Fabio mi accoglio Allora gli apri 14 Sì no mi accoglio più 18 morte Con un livello di vantaggio Porco addio Dei mori a Cortex Che stranzale No basta ho givaffato Come l'altra volta sono un debole Ci rifaremo la prossima volta Fazzò Non ti preoccupare Così Lei è pe 하지만